concordo con quello che ha detto sta dicendo gemma nessuno sta puntando il dito e nessuno sta facendo una questione di razzismo prima fiano spiegava quello che succedeva nella sicilia quando venivano presi i capi mafia nessuno dice che tutti i siciliani erano mafiosi non l'ha mai detto nessuno insomma e non l'ha mai pensato nessuno in tanti l'hanno detto lo hanno pensato conosco bene la sicilia e conosco dei signori siciliani che sono molto meglio di tanti della val d'aosta a me dicono che sono camorrista perché sono campana quindi conosco il tema quindi ognuno al suo però penso che quando si parla di una questione di terra e di nessuno è la verità non si può dire di no non si può dire che non si può non dire che molto spesso le forze dell'ordine non entrino in questi campi non si perché lo vediamo l'abbiamo visto anche in molti servizi che mandati in onda anche voi non si può non dire che gli assistenti sociali in molti campi soprattutto nella periferia romana non entrino più non si può non dire che c'è gente che manda i propri figli a lemosinare invece che mandarli a scuola non si può non dire che lì ci sono problemi di ordine pubblico questa non è l'italia lì non è l'italia lì è la terra di nessuno non possiamo permettere che una nazione che vuole che crede di è che crede o che pensa ancora di essere una nazione a livello europeo abbia situazioni come queste allora